perchè? non devi stare più 16 e sotto i palloni saluta la tv bomber 7459 ora devi dare dei consigli ai giocatori non gli dici più di girarla bisogna sempre girare anche quella palla di qualcosa maffi di qualcosa maffi che non si muove oh non si muove 7461 ho praticato nel loro squadra sai che stai praticando meglio? eh si parla devi dare dei consigli stai esitto e ti muovi mi voglio andare in freddo palla può ritirare la palla mi vergogna ma cos'è ma cos'è col tiro no dai 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 ma cos'è col tiro eh con una mano sola non è che un bambino non riesce a fare un tiro così non con una mano sola vai da capo 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 su su bella questa grande bomber grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti